Oggi è un grande giorno, vedete, sono felice. Mi trovo nel più grande centro commerciale dell'estero Europa, si chiama Palace Mall ed è molto bello, è figo, ci sta di tutto, è gigantesco. E dovete pensare una cosa, che io qui sono ricco, si paga tutto poco, è una figata. Cioè, rapportato a cose più serie, possiamo dire, se io dovessi scegliere adesso dove andare a studiare, sì, in Spagna o in Romania, io sicuramente a questo punto sceglierei la in Romania, ma per un semplice fatto, cioè il potere di acquisto. Gli alloggi costano poco, il mangiare costa poco, i vestiti costano poco, tutto costa pochissimo. Allargate i vostri orizzonti, maledetti, allargate i vostri orizzonti, guardate oltre. La cosa che secondo me è ingiusta è il fatto come noi italiani guardiamo i romeni. Voglio questi soffaticatori, e qui sinceramente è tutto bello, sono sportonati solo perché hanno una moneta debole, non hanno niente da invidiare altri paesi europei. Ah, che vita! Voi non lo sapete, ma io lo so. È una cosa che io dico spesso, spessissimo. Anzi, si sta facendo la storia, e la vita mi darà ragione.